Ciao famiglia bianconera. Benvenuto nel canale, lascia il tuo mi piace e iscriviti. Per ricevere notizie dalla vecchia signora. Ogni giorno. La Juventus continua a cercare Tommaso Baldanzi. La nuova sensazione del calcio italiano è vista come il nuovo Dybala. Tommaso Baldanzi, di 19 anni, è considerato un acquisto da sogno dai club della Serie A. Tommaso Baldanzi sta godendo di un anno di grande successo con l'Empoli, avendo segnato 4 gol in 15 partite. Tutto sembra indicare che la Juventus sarà in competizione per avere Baldanzi, i bianconeri potrebbero investire una grande somma per portare il nuovo Dybala a Torino. Tuttavia, ci sono anche altri club che stanno osservando il talento dell'Empoli. Tommaso Baldanzi potrebbe essere un ottimo acquisto? Fatemi sapere la vostra opinione. E anche ditemi da dove state commentando. Grazie. Grazie.